Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato, il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 16 fino al 31 marzo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!